Parco della Giustizia, a che punto siamo? La ripresa, adesso c'è il tema delle demolizioni, le procedure non hanno subito smottamenti, nessun tipo di ritardo, ottimismo ragionevole ma monitoraggio costante dell'andamento dei lavori. Non vedo allo Stato difficoltà che il demanio possa mantenere la data fissata nel cronoprogramma. Bisogna vigilare perché le procedure amministrative possono essere corrette, correttissime, ma le imprevedibilità ci sono sempre, bisogna neutralizzarle con un po' di anticipo.